Asamoah, da chiudere a mate, la crostia Asamoah, prova a colpire di testa ancora Mangiochicci, pallone buono, la rete dell'1-0, ha segnato la Juventus con Paolo Vibala al decimo minuto, alla prima opportunità ha colpito la Hoya. Sempre lui che riesce a mettersi nel posto giusto al momento giusto, giocata provata in allenamento, Bonucci cambio gioco su Mangiochicci, dall'altra parte spizzata per Asamoah, Suso si è addormentato, non ha seguito Asamoah, cross in mezzo, un rimpallo sicuramente ha favorito un assist di Quadrado. Si è ritrovato, Antoneglia li prese con Quadrado e con Vibala, uno contro due, e lì di fatto ha gettato le premesse per il vantaggio la Juventus, il destro di Paolo Vibala, che ha cominciato come meglio non avrebbe potuto al suo 2017. Questo è il quarto gol in poco più di quattro partite, vantaggio Juventus, al decimo andiamo da Stefano Mattei. Impassibile Montella che...